L'idea più ispirata mai venuta in mente a un uomo. Nicolai Vassilievich Gogol, le anime morte. Ma intanto il nostro eroe fu folgorato dall'idea più ispirata che fosse mai venuta in mente a un uomo. Oh, che razza di babbeo sono, disse fra sé. Cerco i guanti e ce li ho attaccati alla cintura. Ma se compro tutti questi, che sono morti prima che vengano consegnate le nuove liste di revisione, se ne acquisto, poniamo mille, sì, e poniamo che il consiglio di tutela mi dia 200 rubli per anima, ecco già 200.000 rubli di capitale. E questo è proprio il momento adatto. Recentemente c'è stata un'epidemia. Di gente, grazie a Dio, ne è morta un bel po'. I proprietari terrieri si sono rovinati giocando a carte. Hanno fatto baldoria e sperperato denaro come si deve. Tutti sono finiti a Pietroburgo a lavorare nell'amministrazione. Le proprietà sono abbandonate. Vengono amministrate come capita. Ogni anno diventa più difficile pagare i tributti, cosicché tutti saranno ben contenti di cedermeli, se non altro per non pagarci sopra il testatico. E chissà mai che qualche volta non riesca a spillare un soldarello a qualcuno. Naturalmente è difficile, laborioso, rischioso. Basta che non mi metta ancora nei guai, che non ne nasca qualche pasticcio. Ma l'intelligenza non è mica stata data all'uomo per niente. E soprattutto c'è di buono che la cosa sembrerà a tutti inverosimile. Nessuno ci crederà. È vero che senza terra non si può né comprare né impegnare. Ma io li comprerò per trasferirli, per trasferirli. Adesso nei governatorati di Tauride e di Kherson distribuiscono terra gratuitamente, purché le si colonizzi. E là li trasferirò tutti, a Kherson, che vivano là. E il trasferimento si può fare in modo legale, come si deve, tramite i tribunali. Se vorranno controllare i contadini, prego, non ho nulla in contrario, perché no? Presenterò anche un certificato con firma autografa del capitano di polizia. Il villaggio si può chiamare Borgo Eyeikov, oppure, dal mio nome di battesimo, villaggio di Pavlovskoe. Facendosi il segno della croce, secondo l'uso russo, passò all'attuazione. Con l'aria di scegliersi un luogo per vivere e con altri pretesti, si mise a curiosare nei vari angoli del nostro impero, e soprattutto in quelli che avevano maggiormente sofferto per calamità naturali, carestie, epidemie e via dicendo. Insomma, dove si poteva comprare più comodamente e più a buon mercato la gente che gli serviva. Non si rivolse a casaccio, a qualsiasi proprietario, ma scelse le persone che più gli piacevano, o con cui si potevano concludere simili transazioni con minori difficoltà, cercando prima di conoscerli e guadagnarsi le loro simpatie, per ottenere i contadini, se possibile, più per amicizia che per contratto.